Gli ingredienti necessari affinché un programma di simulazione del training possa evolvere da un programma nazionale, uno globale, direi che sono fondamentalmente cinque. Prima di tutto la conoscenza, dobbiamo conoscere di che cosa stiamo parlando e qui non dobbiamo fare altro che riportare in ambito medico le esperienze extramedicali, prima di tutto le esperienze in ambito di aviazione e sportivo, dove la simulazione l'ha fatta da padrono negli ultimi trent'anni. Secondo direi le competenze, bisogna individuare le persone giuste che possono con competenza seguire un processo di questo genere. Terzo direi l'organizzazione e per l'organizzazione intendo trovare un modo anche finanziariamente sostenibile affinché questi processi di simulazione possono evolvere globalmente. e qui la CU ad esempio ha recentemente portato questa esperienza di teletraining con successo che potrebbe essere riportata a livello anche europeo. Direi per quarto punto la standardizzazione, ossia tutti questi processi di simulazione training devono ricevere una standardizzazione in ogni loro step e per ultimo, perché penso che ad oggi non possiamo farne a meno, i finanziamenti. Probabilmente anche il privato dovrà entrare nel finanziamento di questi programmi di simulazione per aiutare le università nei programmi di formazione dei loro specializzanti.